Questa sera abbiamo presentato un'innovazione che AbitCop ha messo in campo a partire dall'anno scorso, una nuova società, si chiama Abitare Servizi. Lo scopo della società è quello di riqualificare il patrimonio edilizio esistente. Abbiamo avuto un primo intervento con il patrimonio edilizio della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, ristrutturando tre appartamenti e una filiale, un intervento che ha avuto un buon successo dal punto di vista economico ed architettonico. Gli appartamenti così ristrutturati sono stati messi a disposizione dei soci di AbitCop che da oggi avranno una possibilità in più grazie a questo tipo di intervento.